ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in formato video dove io personalmente vi leggo i bocciardini in questa nuova serie di video tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute in questo video ti parlo della malattia o patologia indurati o penis plastica la indurati o penis plastica è una malattia degenerativa del pene ad etiologia molto spesso ignota può provocare gravi formi di incurvamento e retrazione del pene con drammatiche ripercussioni sulla vita sessuale del paziente la prevalenza nella popolazione generale è del 3 5 per cento ma in alcune patologie molto frequenti come il diabete mellito arriva fino al 20 per cento diagnosi diagnosi con modalità possibilmente non invasive trattamenti trattamento con modalità possibilmente non invasive trattamento chirurgico urologico per le forme gravi e gli incurvamenti congeniti supporto psicosessuologico per il paziente con indurati o penis plastica nella prima fase infiammatoria evolutiva in cui è presente il dolore in erezione supporto psicologico nelle fasi di adattamento fonte informazioni rilevate dal sito humanitas punto it grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo alla prossima patologia esaminata